Ciao da tutta la Toscana, Grosseto, Massacarra da Firenze, Livorno, siamo tutti qua. Tutti. Paolo, la regione toscana è l'unica regione col ballottaggio. Cos'è un falcio? Cosa ci puoi dire? Cominciamo a dimostrare a Renzi che tipo di soluzione avrà la sua nuova legge elettorale. Intanto nel ballottaggio ci prendiamo la Toscana e poi se continuano su questa strada chissà che non ci prendiamo anche direttamente tutto il paese. A parte gli scherzi, noi ce la mettiamo tutta. Sì, la Toscana ha una possibilità in più con il ballottaggio, quindi primo turno andate a votare, a prescindere il sole, l'acqua, andate a votare e sfidate un diritto, è un diritto e un dovere. Noi, loro, nessuno, mandate l'icca, se noi ritirate la scheda e gliela ridate, ma non fatevi togliere il diritto di voto perché è quello che vogliono fare. Poi se votate noi fate il sordine d'amore. 31 maggio, 31 maggio, forza!